Fra poco i parlamentari del Movimento 5 Stelle si riuniranno per decidere come comportarsi dal quarto scrutinio. L'orientamento è di insistere su Imposimato, ma pochi minuti fa Di Maio ha detto al Tg2 che il colpo di scena è sempre possibile. Giuseppe Carboni. Dopo averci ragionato ieri sera, questa mattina, mentre è in corso la seconda votazione, i 5 Stelle maturano la decisione. Avanti con Ferdinando Imposimato, il candidato espresso dalla rete. Su Mattarella non ci sono margini. Questione di metodo innanzitutto. Poi in serata arriva l'appello di Renzi che su Mattarella auspica un'ampia convergenza. Luigi Di Maio la notizia la commenta così. È singolare che il Presidente del Consiglio prima faccia un nome al suo partito e conta di votarselo grazie ai voti determinanti dei Volta Gabbana, del Movimento 5 Stelle e di altre forze politiche e poi faccia l'appello a farselo votare. Noi siamo nella partita per migliorare il profilo del Presidente della Repubblica, per portare al Quirinale un Presidente della Repubblica coraggioso che difenda gli interessi dei cittadini. Tra poco vi riunite in Assemblea. È possibile un colpo di scena? Il colpo di scena è sempre in agguato. Ma credo è di escludere che domani mattina per la quarta votazione voteremo Mattarella. Ci saremo tra la quarta e la quinta quando, se ci sarà il colpo di scena, potremo migliorare con i nostri voti il profilo del Presidente della Repubblica e non dare i voti a quello che già li ha. Questo però significa che probabilmente pensate anche ad un altro nome. È sicuro. Noi siamo disponibili a mettere sul piatto un altro nome per creare una condivisione maggiore. Il Presidente della Repubblica non è un affare di un partito, ma deve rappresentare la nazione e quindi le forze politiche in Parlamento. Sempre che ci sia una quinta votazione non correte troppi rischi. Il colpo di scena è sempre in agguato in queste cose ed è per questo che esiste il Movimento 5 Stelle, per mettere a disposizione i voti quando c'è da migliorare il risultato.